Bentornati cittadini! Non so se lo sapete, ma da molti anni, ogni anno, l'Italia spedisce in giro per il mondo migliaia di soldati ovviamente assieme a mezzi, risorse, navi, carri armati, eccetera eccetera spendendo ogni anno miliardi di euro di denaro pubblico Queste spedizioni si chiamano missioni estere o missioni militari all'estero scopriamo assieme quante sono, dove si trovano, quanto costano e in più, visto come è finito l'Afghanistan facciamo anche qualche considerazione su quali missioni sono più o meno utili o obbligatorie per via di trattati internazionali, obblighi con l'ONU, l'Unione Europea, eccetera e quali invece no, che magari anzi sono inutili, dispendiose, un pozzo senza fine perché magari quei milioni o miliardi di euro che si risparmierebbero si potrebbero usare per qualcos'altro che ne so, tipo abbassare le tasse, fare gli asilini gratis, eccetera eccetera come sempre vi lascio qui sotto tra i commenti e in descrizione vari link di letture interessanti, fonti, se volete magari approfondire gli argomenti in più vi lascio anche il link di un pdf che praticamente è la legge fatta dal governo il 21 luglio scorso, che vi mostra tutte le missioni autorizzate dal governo o che il governo chiede al Parlamento di autorizzare finanziare sia quelle attuali in piedi da anni, sia missioni nuove che per esempio per il 2021 sono due le missioni nuove inventate dal governo da tale documento, per esempio, tra le varie cose si evince che l'Italia, per esempio, spende ben più di un miliardo di euro all'anno per le missioni all'estero che sono tanti soldi, se ci pensate soprattutto se si prende in considerazione il panorama internazionale che è in continuo costante cambiamento, repentino e oggetto di profonde trasformazioni basti guardare l'Afghanistan, ma non solo ma partiamo dalla domanda perché si fanno missioni all'estero? beh, principalmente per due motivi per interessi strategici, economici, personali dell'Italia cioè del paese e per motivi di carattere umanitario difensivo, di protezione di determinati popoli, paesi magari in guerra civile per combattere il terrorismo quindi per questioni dove ci si mette assieme d'accordo tra paesi stranieri Italia, Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, per esempio ci mettono assieme per una missione specifica che serve per oppure capeggiata dall'ONU per portare pace il peacekeeping in determinate zone dove altrimenti si scannerebbero vicende in guerre civili eccetera eccetera in conclusione ciò che si propone il governo italiano è lo schieramento di contingenti in missioni valutate come rispondenti a interessi vitali nazionali e ritenuti idonei a garantire la sicurezza internazionale avendo quali obiettivi ultimi il contrasto al terrorismo la stabilizzazione delle aree indicate e la coesione euro-atlantica ecco il perché, ad esempio l'Italia ricopre da anni operazioni nei vicini Balcani e in Africa per questo 2021 sono due le nuove missioni aggiuntive per le quali il governo chiede l'autorizzazione al Parlamento in questo modo il totale generale delle missioni italiane salirà quindi da 38 a 40 40 missioni totali per un paese come l'Italia che in teoria ripudia la guerra per costituzione considerando poi il costo economico ma anche di sforzi, di risorse e soprattutto di uomini per esempio ricordiamoci che in Afghanistan sono morte più di 50 persone italiani tra l'altro visti i tempi in cui viviamo la situazione economica in cui viviamo forse si potrebbe iniziare a fare delle considerazioni un po' diverse e capire cosa o se tutto questo vale la pena oppure no secondo molti esperti l'Italia negli ultimi decenni ha avuto e sta avendo una sorta di ansia da prestazione o meglio ansia da contribuzione cioè l'Italia a prescindere se qualcosa accade nel mondo deve esserci con un piedino dentro ma deve esserci un po' alla Mussolini del bastano qualche migliaio di morti per sedere al tavolo delle trattative quindi non tanto sul perché deve esserci ma deve esserci punto e basta si fa qualcosa e a primi noi arriviamo senza mai entrare nel dettaglio per capire che cosa serva a quel tipo di missioni se sono giuste o no che scopi hanno se c'è una strategia o un pianificazione dietro oppure no se c'è un termine se si va alla bene e meglio e poi vediamo perché se lo facciamo come abbiamo fatto fino adesso veramente è uno spreco di tempo, risorse e denaro e l'Italia non ci guadagna prestigio o interessi internazionali guarda in Afghanistan abbiamo speso miliardi buttati letteralmente nel cestino come si compongono queste 40 missioni? sono 9 le missioni svolte in ambito Nato 12 quelle in ambito dell'Unione Europea e infine 7 in quello ONU a queste se ne aggiungono altre 3 che si svolgono nel contesto della Coalition of the Willing cioè per correre dietro ad alleati come Stati Uniti per esempio in Iraq e in Afghanistan mentre le rimanenti 9 più Djibouti e Golfo Bersico sono esclusivamente di scelta autonoma italiana un quadro dunque che conferma da una parte la ricerca di una relativa maggiore indipendenza del nostro paese sulla scena internazionale anche se come detto sui modi e sui risultati ci sarebbe da discutere e dall'altra il comunque sempre forte ancoraggio alle organizzazioni internazionali di riferimento tipo ONU, NATO o Unione Europea ma dove sono queste 40 missioni? l'Africa conserva il primato con 19 missioni di varia natura il Niger, Somalia, Sahara occidentale, Djibouti, Repubblica Centroafricana eccetera segue l'Europa con 11 missioni incluse quelle nel Mediterraneo nel fianco sud della NATO e infine l'Asia con 10 missioni si spazia da paesi europei balcanici come Serbia, Kosovo, Bosnia e Herzegovina e i Baltici come Estonia ed Ettonia in Asia con il Libano, l'Iraq e fino a pochi giorni fa l'Afghanistan ma abbiamo ancora truppe in Pakistan per esempio quanto costano queste missioni? abbiamo sparsi in giro per il mondo 9.449 militari più dozzine di mezzi corazzati, navi eccetera eccetera e dal punto di vista finanziario infine per il 2021 i fondi richiesti per sostenere le missioni militari sono pari a 1 miliardo e 254,6 milioni di euro e se vi sembrano tanti vi invito a leggere la redazione parlamentare al riguardo della quale vi lascio appunto anche il link qui sotto dove si evince che in vent'anni di guerra in Afghanistan soltanto l'Italia ha speso ben 8,7 miliardi di euro dei quali 840 milioni sono serviti per come contributo ovviamente assieme agli altri paesi America, Inghilterra eccetera per pagare gli stipendi al famigerato potente esercito afgano che in pochi giorni si è sciolto come neva il sole all'arrivo dei talebani ma avete idea di quante tasse si possono abbassare quanto welfare si possa fare in Italia quanti asili nido quanti soldi per la ricerca, per la cultura, l'istruzione per la sanità pubblica con gli ospedali che stanno facendo acqua da tutte le parti quante belle cosine si potrebbero fare per esempio con questi 9 miliardi spesi in Afghanistan in 20 anni? e letteralmente buttati? per questo diciamo sì, le emissioni all'estero sono anche magari utili alcune valutiamo assieme con gli altri paesi ma bisogna fare anche di distinguo, di pro e contro delle analisi perché non tutte valgono la pena sono soldi pubblici che noi italiani ci tiriamo fuori dalle tasche e li buttiamo praticamente via e spesso non è che ci ritorna una strategia una posizione internazionale o per le nostre compagnie petrolifere abbiamo interessi super mega inter... no, metà delle quali non servono assolutamente a niente anzi, se leggete i documenti molte missioni servono per addestrare l'esercito di turno di quel paese però mi chiedo da che mondo è mondo gli istruttori ci si li paga da soli? cioè, non è che qualcuno mi insegna io pago chi mi insegna non è che me lo paga qualcun altro perché noi italiani dobbiamo pagare per addestrare un esercito in Mali? faccio per dire per esempio, sono anni che siamo in Kosovo e quest'anno il governo vuole perfino aumentare le truppe presenti anzi, siamo lì sia per conto Nato sia per conto Unione Europea con missioni differenti ma sono anni che sono in stallo non se ne va fuori non c'è una strategia, un'utilità di continuare a rimanere in Kosovo ma stessa cosa per la Bosnia e Herzegovina sono decenni che hanno avuto la guerra civile posso capire le missioni per proteggere il mare mediterraneo regolare l'immigrazione clandestina difendere interessi personali italiani in Libia ma in certi paesi dove siamo da anni tipo in Libano abbiamo due diverse missioni e guardate la situazione del Libano ma anche in Mali siamo lì con quattro diverse missioni da anni che risultati portano tutte queste missioni? tra l'altro io sono sempre dell'idea che dovremmo iniziare a creare un esercito di difesa europeo gestito e pagato dall'Unione Europea con bandiera europea quindi in sintesi bisognerebbe fare un'analisi pubblica su tutte le missioni far capire quale sì vale la pena quale no mettere dei paletti mettere delle date certe di inizio e di fine vedere ogni semestre, ogni anno i risultati se sono arrivati oppure no e metterci un taglio altrimenti si buttano veramente soldi fuori dalla finestra e sono soldi tanti che andrebbero invece utilizzati piuttosto per gli italiani che stanno in Italia non trovate? che cosa ne pensate? lasciate i vostri commenti qua sotto come sempre risponderò a tutti vi ringrazio molto per avermi seguito vi ricordo per favore se potete iscrivervi al mio canale cliccando iscriviti al pulsante qui sotto e anche cliccando la campanella per ricevere notifiche dei futuri nuovi video ricordate sempre che sapere potere e la conoscenza rende liberi se potete iscriviti al prossimo episodio e se potete iscriviti al prossimo episodio